in collaborazione con Bentrovati amici di Le Fonti TV e dunque avete visto con la nostra sigla diamo il via a un nuovo appuntamento del nostro format oltre la barriera in collaborazione con BMP Paribas naturalmente per mettere in relazione nei mercati finanziari quindi il periodo che stiamo vivendo con certificati di investimento e lo facciamo con i nostri ospiti saluto Luca Comunian Distribution Sales di BMP Paribas bentrovato Luca grazie per essere con noi grazie e buongiorno a voi e salutiamo Pierpaolo Scandurra certificati e derivati anche lui sempre un abitue ormai del nostro format che ci darà una mano a entrare più nel merito dei certificati grazie Pierpaolo grazie a voi buongiorno a tutti e allora guardando il titolo che abbiamo in sovrimpressione mi riferisco sia a chi ci sta seguendo ma anche a voi due entrambi gli ospiti mi viene anche un po' da sorridere perché perché insomma da un po' di tempo leggiamo mercati incerti e volatili e poi ovviamente associamo i certificati cosa offrono i certificati beh del resto non potrebbe che essere così è un po' uno scenario sempre in evoluzione con momenti insomma di respiro momenti in cui si ha ancora molto timore usiamo questa parola a guardare avanti insomma con gli investitori che restano sempre un po' alla finestra cercando punti a cui appigliarsi ed è proprio anche l'obiettivo di questo format e anche in questa puntata cercheremo di dare indicazioni pratiche allora Luca Comunian parto proprio da te è così insomma del resto lo scenario di mercato è questo sì lo abbiamo visto bene anche durante settimana scorsa in occasione del Salone del Risparmio dove abbiamo avuto l'opportunità intanto di fare una conferenza anche con i nostri analisti di Exan e ovviamente di confrontarci con tutti un po' gli operatori del mercato finanziario in Italia e le variabili chiave secondo me da cui partire per poi impostare un ragionamento sono quelle ovviamente di un mercato che se vogliamo è diverso rispetto agli anni scorsi abbiamo dei tassi di interesse che non sono più in area neutrale vicino allo zero se non negativi e abbiamo un tema che è l'inflazione che ovviamente ormai segna dei livelli diciamo non sostenibili da vari mesi per il quale si prevede ovviamente un rallentamento dell'economia che possa in qualche maniera poi calmirare l'inflazione e al tempo stesso quindi va di conseguenza le politiche delle banche centrali che stanno continuando il rialzo dei tassi sebbene si pensi che possono essere un po' a quello che è chiamato il terminal rate o a breve raggiungeremo il terminal rate quindi possiamo immaginare di essere in un livello di tassi di interesse che se non è vicino al massimo che le banche centrali raggiungeranno poco manca insomma e in questo contesto noi ovviamente abbiamo da inizio anno un po' adeguato la nostra gamma di prodotti per sfruttare questo tipo di contesto dunque un contesto che soprattutto sull'ambito dei mercati azionari quindi dell'equity a fronte di un eventuale rallentamento dell'economia ci possiamo aspettare dei mercati che soprattutto anche dopo la corsa dei primi mesi dell'anno possano registrare dei valori laterali possono avere un andamento laterale o anche in alcuni casi leggermente ribassista e sulla base di questo abbiamo provato da inizio anno fino ad oggi a proporre delle gamme di certificati che avessero un rendimento target interessante e diciamo così anche un po' spostandolo in una fascia sopra quello che è il mercato obbligazionario in euro in termini di rendimento quindi in modo che chi va a inserire i certificati all'interno del portafoglio possa complementare l'offerta obbligazionaria che oggi appunto ha dei rendimenti positivi che possono dipendere un po' ovviamente dalle durate che si vanno a inserire nel portafoglio ma possono concentrarsi tra il 3 e il 6% a seconda delle durate e invece poi andrà a completare con una serie di certificati che possono essere inseriti nel portafoglio che invece partono dal 7-8% noi abbiamo sviluppato una gamma su sottostanti italiani che gira intorno al 10% poi abbiamo anche diversificato entriamo a vederlo magari più certo nel dettaglio un dettaglio successivamente supera il 10% per l'aspetta di portafoglio dove magari si vogliono inserire più rischi e quindi andare a cercare più rendimento e al tempo stesso a fronte a questi rendimenti chiamiamoli target abbiamo sviluppato una serie di caratteristiche dei certificati per se vogliamo enfatizzare la simmetria di rendimento quindi andare ad avere questo tipo di rendimenti su mercati laterali o anche ribassisti e questo è stato un po' tutto il lavoro che è stato il mantra se vogliamo nello sviluppo della nostra gamma e della nostra offerta certo beh insomma direi che Luca Comuniana ha già fatto un bel sommario di quello che andremo a presentare in questa puntata il concetto mi sembra di capire insomma è sempre quello che ritorna credo che sia universale come considerazione ma in questo scenario di mercato ancora di più avvicinarsi con tanti strumenti alle diverse esigenze ovviamente dell'investitore che come dicevamo inizialmente è sempre alla finestra un po' a guardare Pierpaolo prima di entrare appunto nel merito degli esempi anche una tua view abbiamo sentito insomma è ovvio che le banche centrali sono sempre al centro dell'attenzione finché non termineranno le loro operazioni appunto abbiamo questo permettetemi l'espressione questo disco rotto molti lo definiscono così no? e ci ripetiamo insomma quello che sappiamo però occorre occorre poi dare giuste risposte a chi vuole giustamente investire no? partiamo da qui con la tua con la tua view Pierpaolo Scandurra sì allora intanto volevo comunque dire che a proposito del tema che ci ha accompagnato in tutto questo ciclo anche nei mesi scorsi qualcosa effettivamente un po' è cambiato cioè in un contesto dove comunque c'è una sorta di disco rotto comunque una tematica che si riprende e si ripete che è quella di avere mercati incerti devo dire Manuela che in realtà quello che stiamo vivendo da qualche mese a questa parte in particolare dico almeno due o tre mesi in realtà non è poi tutta questa volatilità anzi se proprio volessimo dirla tutta stiamo vivendo una fase dove la volatilità rappresentata dall'indice VIX per quanto riguarda il mercato americano e dal Vistox per quello europeo in realtà è molto bassa siamo tornati in area 16 17 quindi al di sotto di quella soglia dei 20 punti che tecnicamente poi porta anche una maggiore al di sotto una maggiore stabilità e al di sopra a qualche picco ogni tanto di nervosismo invece no da diverse settimane stiamo vivendo in questa soglia al di sotto di questa soglia il che però non rende particolarmente insomma più leggibile il mercato perché se è vero che quando c'è volatilità c'è nervosismo e quindi le oscillazioni diventano più ampie però è altrettanto vero che quando a fronte di incertezza e questa purtroppo invece ce la dobbiamo tenere come definizione del mercato perché dalle banche centrali che devono comunque continuare il loro percorso senza però sbagliare né timing né né commenti che accompagnano le decisioni a tutto quello che poi sarà anche la risposta da parte del mercato si parlava di recessione recessione magari non sarà proprio a tutti gli effetti insomma comunque in un contesto incerto sembra che i mercati invece vogliano continuare a vivere con questo rialzo che è partito dall'inizio anno però io invece sono molto più cauto ecco Manuela se dovessi raccontarti un po' il mio stato d'animo rispetto agli appuntamenti del 2022 paradossalmente mi sento un po' più preoccupato oggi rispetto al 2022 sembra paradossale però il 2022 lo eravamo un po' tutti eravamo in una fase di mercato incerto quindi l'approccio che si aveva nei confronti del mercato era comunque di prudenza evidentemente perché passavi da un giorno all'altro da performance molto positive magari a prese di beneficio adesso invece da inizio anno sembra che veramente si sia un po' impermeabili a qualsiasi evento e questo a me per l'esperienza che ho maturato sul mercato con qualche capello bianco ormai non mi piace troppo e quindi dico di stare un po' più prudenti nella scelta degli strumenti no questo è vero la sensazione in effetti poi voi operatori insomma l'avete indubbiamente più netta però la sensazione è proprio quella l'anno scorso tutto sommato comunque si entrava maggiormente si agiva un po' di più si prendeva più posizione adesso è per questo che la parola volatilità in qualche modo l'abbiamo fatta sempre rientrare perché forse è più il sentimento degli operatori che è volatile più che il mercato che come hai detto tu in questo momento rimane incerto ma meno volatile e quindi ovviamente però poi sappiamo molto bene quanto e come le azioni degli operatori vadano a modificare poi l'andamento del mercato quindi assolutamente grazie per questa view che aggiunge sicuramente possibilità di come dire riflessione per i nostri per i nostri telespettatori e per chi ci sta seguendo a questo punto andiamo nel pratico perché non è questo solo un forum per parlare nonostante sia molto importante Luca Comunian ritorno da te perché direi di partire dobbiamo parlare di due elementi diciamo così li hai già un po' elencati prima però insomma parliamo della nuova nuovissima emissione che vi riguarda sì perché Paolo ha toccato un ottimo punto della volatilità dall'altra parte ritorno al discorso di inflazione perché se è vero che c'è incertezza di sicuro lasciare le proprie risorse nel conto corrente come dire quindi non investire non è una buona non è altrettanto una buona decisione perché questo vuol dire con un'inflazione a livelli attuali vorrebbe dire comunque consumare potere di acquisto e quindi sicuramente anche questo non è una non è una soluzione con livelli di inflazione così alta quindi possiamo andare a parlare come mi chiedevi giustamente della nuova emissione che abbiamo quotato su Borsa Italiana a venerdì scorso e qui mi aiuto magari condividendo anche il mio schermo perché abbiamo emesso una nuova gamma di 25 in questo caso memory cash collector su singole azioni cosa vuol dire quindi su singole azioni perché uno perché abbiamo voluto in qualche maniera andare a togliere ulteriore rischio di solito i memory cash collector come vedremo anche dopo la maggior parte degli scambi sono su panieri di due o tre azioni qui abbiamo voluto andare invece a creare un certificato su una singola azione quindi andando come dire a togliere rischio nel senso che anziché esporsi all'andamento di due o barra tre azioni in questo caso si ha una sola azione e al tempo stesso quindi anche agli investitori di essere selettivi perché oggettivamente possono andare a selezionare un'azione facente parte ad esempio di un settore in cui credono di più rispetto ad un'altra e questo ovviamente è una caratteristica che toglie rischio se vogliamo rispetto a un paniere di due o tre azioni in quanto l'andamento del certificato sarà legato a un appunto singola azione andremo a vedere sono 25 prodotti proprio perché poi le azioni sono tante soprattutto del listino italiano facente parte di vari settori ma anche azioni europee e americane e quindi siamo andati a coprire abbiamo creato una gamma ampia se vogliamo di tanti prodotti perché l'obiettivo è proprio quello di andare a coprire quanti più mercati possibili quanti più settori possibili andando nel dettaglio dei prodotti qui vi faccio vedere è disponibile sul nostro sito la landing page dedicata all'emissione con tutta la lista dei prodotti e anche la brochure che vi sto mostrando ora sono prodotti che hanno due principali caratteristiche a mio avviso distintive una la durata è un investimento a un anno al tempo stesso non ha una scadenza anticipata nei memory cash collect spesso si ha la possibilità di una scadenza anticipata a partire dal sesto mese in questo caso visto la breve durata sono prodotti che non prevedono la scadenza anticipata prevedono invece dei premi mensili con effetto memoria e barriere che sono comprese tra il 40 e il 60 80% adesso andiamo a vedere nel dettaglio quindi un investimento ad un anno che paga dei premi ricorrenti in maniera mensile con effetto memoria e appunto la condizione in che questi premi siano pagati è il rispetto della barriera del certificato come anche la protezione del capitale è soggetta al rispetto della barriera in questo caso a scadenza per quanto riguarda i nomi e quindi dicevamo prima una gamba molto ampia possiamo vedere come le prime soluzioni all'interno della brochure abbiamo unicredit intesa Eniene Stellanti Spirelli Leonardo e così via senza allencarle tutte ma l'obiettivo anche in questo caso vediamo delle barriere 60 65 70 quindi questi sono i valori e il range sui nomi italiani e come dicevo prima anche i rendimenti potenziali per anno si aggirano intorno al partiamo da Eniene che paga 6,72 e arriviamo a Unicredit che invece paga 9,6 quindi abbiamo il settore bancario sicuramente abbiamo petrolifero con Enil Eni scusate Stellanti Spirelli Leonardo Tenaris quindi ovviamente abbiamo anche il tema dei microchip con STM questo è un po' il mondo italiano che se vogliamo racchiude forse i nomi anche più conosciuti del nostro listino tra invece i nomi che non fanno parte del nostro listino abbiamo diversi diversi settori Capri Holding nel mondo del lusso abbiamo scelto una società che ha forse meno forse meno conosciuto ma ha più volatilità in un contesto dove volatilità appunto ce n'è poca e questo ci permette di pagare un 12,6% in un settore in lusso che invece solitamente esprime dei rendimenti inferiori abbiamo spinto anche molto sul tema delle clean energy Plug Power Sun Run e Vestas sono le tre azioni che lo rappresentano ecco Plug Power forse è una menzione particolare perché nei giorni scorsi ha visto il prezzo della sua azione andare particolarmente in rosso ma a nostro avviso l'abbiamo comunque che ho voluto proporre vediamo perché uno il rendimento potenziale è interessante è molto alto direi al tempo stesso abbiamo abbinato una barriera tipo 40% quindi assorbere i bassi fino al 60% e soprattutto poi il livello di strike è avvenuto proprio tra uno dei giorni dove ha toccato forse il valore più basso negli ultimi mesi quindi potrebbe essere un'opportunità per puntare appunto in un recupero del settore in particolare dell'azione politica e andando velocemente poi a scorrere il resto della lista sicuramente il settore travel con airlines e società come Airbnb staranno riscoprendo un nuovo interesse in questa fase dopo il covid più volte sono tornati i settori riflettori mi sembra che anche in questo periodo sia il caso perché vediamo flussi su questo tipo di sottostanti e poi a scendere quindi con Zalando sul mondo sempre dell'online Netflix Meta invece sono due titoli che fanno parte del listino ovviamente Nasdaq e quindi in ambito FANG Microchip e ancora una volta abbiamo anche riproposto Moderna sul mondo di quello che è una volta li chiamavamo vaccini forse ora Moderna è più una società di sperimentazione in ambito di parma e questa è un po' ecco la lista come vediamo l'ultima cosa che mi sento di sottolineare è nonostante appunto abbiamo scelto delle singole azioni abbiamo cercato sempre di favorire delle barriere basse nell'ordine del 60% abbiamo visto sui titoli italiani anche 65-70 ma comunque cercare di portare quella che è la condizione fondamentale affinché questi prodotti abbiano una performance positiva quanto più profonde possibili in modo da favorire proprio la performance dei prodotti in mercati laterali o ribassisti fino alle barriere ok allora Luca perfetto adesso ti chiedo di togliere la condivisione abbiamo visto tanti settori diversi di riferimento proprio sulla insomma che seguono sempre la regola della diversificazione Pierpaolo do subito la parola a te così entriamo nel merito andiamo a vedere qualche esempio magari indicaci tu la strada insomma un po' da seguire sì allora intanto devo dire che l'emissione è molto interessante per la durata in relazione all'opportunità che offre l'assenza di rimborso anticipato a volte allontana un po' un target di clientela che è quello magari del fai da te chiamiamolo così viceversa avvicina un po' di più i consulenti io credo che B&P Paribas in questo caso sia riuscito a trovare un giusto equilibrio che possa soddisfare entrambi quindi dura solo un anno ma nello stesso tempo non c'è il rischio che dopo tre mesi tu debba tornare dal cliente per iniziare nuovamente la trattativa nel caso specifico quindi nell'apprezzare l'idea ho selezionato due strumenti il primo è legato al titolo STM scusate Stellantis avevo visto anche STM ma purtroppo era già cresciuto molto di prezzo e pertanto esprimeva un rendimento potenziale un po' più ridotto invece nel caso specifico dell'emissione su Stellantis che vediamo vede al momento l'azione in rialzo di circa 4 punti percentuali il certificato si acquista poco sopra la pari e paga cedole mensili dello 0,7 che quindi è un rotondo 8,4% di rendimento potenziale da qui alla scadenza di un anno quindi se andiamo a guardare l'analisi di scenario che è un po' la fotografia che ci consente di andare a capire in un solo momento in un colpo d'occhio quanto si può guadagnare e quanto si può perdere acquistandolo più o meno a ridosso del nominale io so che da qui ad un anno potrò puntare a un rendimento di circa il 7,50% facciamo anche 8 se si riesce a comprare qualcosina in meno fino a circa meno 40% da adesso del titolo Stellantis perché Stellantis appunto è cresciuta di prezzo rispetto all'emissione quindi è un rendimento che di per sé rispetto a tante altre proposte che abbiamo visto su basket di titoli non sembra eccellente però si contestualizza proprio in questo quadro di mercato di cui parlavamo prima Emanuela cioè è vero che c'è la componente tasso che aiuta nella costruzione dei prodotti e correttamente Luca ha detto invita a spostare i rendimenti nella fascia superiore a quella delle obbligazioni però nello stesso tempo in assenza di volatilità se si vuole ridurre il rischio ad un solo titolo sottostante su queste azioni italiane o comunque non troppo volatili oltre 8 o 9 punti difficilmente ci si va e appunto la seconda idea che anche qui è quotata appena sopra la pari intorno ai 101 è legata al titolo intesa San Paolo fresca di stacco di dividendo pertanto quanto andiamo ad osservare come variazione è già al netto dello stacco del dividendo quindi siamo a circa due punti dal livello di strike iniziale qui la cedola è dello 0,75 al mese quindi un po' più alta per un rendimento che su base annua è ugualmente di circa il 7,70 perché e qui poi dopo ripasso la parola Luca e naturalmente prima a te perché la scelta di due titoli comunque più tra virgolette tranquilli e soprattutto già ben noti agli investitori proprio per coerenza con quanto detto in precedenza fermo restando che il bello dei certificati è che c'è un'offerta talmente ampia che potrebbe esserci qualcuno che al contrario di quello che ho detto io pensa che i mercati cresceranno molto e allora comprerà il prodotto su Zalando su Black Power o comunque su titoli più volatili che arrivano anche a 16% anni ecco io dico per quest'anno magari accontentiamoci di battere l'inflazione 8-10 punti e però abbiamo una struttura decisamente più protettiva però in ogni caso questo è stato un po' il criterio di selezione no no è molto chiaro sulla struttura protettiva volevo sentire insomma un commento di Luca e poi andiamo oltre perché dobbiamo passare all'altra parte diciamo del nostro schema della puntata di oggi però questo è interessante insomma la scelta di come consideri la scelta di Pierpaolo noi vediamo abbiamo visto sul mercato e appunto anche mi rifaccio un po' ad alcune discussioni fatti con dei consulenti che appunto hanno il problema di posizionare i portafogli sicuramente è questo un po' l'obiettivo a mio avviso in questo momento quello che si cerca è proprio quello di avere un rendimento che batta l'inflazione senza andare troppo ad assumere rischio per avere un'accelerazione maggiore e di conseguenza appunto come il modo in cui dicevo prima sviluppiamo la gamma e poi è chiaro che anche nel nostro obiettivo è quello di avere una varietà di prodotti in modo da soddisfare tutte le esigenze e sicuramente anche per una parte magari non core più piccola di portafoglio perché no se si crede in un particolare titolo che ci espone a più volatilità a più rischio ma ci porta a un rendimento del 15% perché no inserirlo in una parte che magari rimane residuale ma che è quella parte dove siamo disposti ad accettare un'eventuale perdita ma anche invece che destiniamo ad avere dei rendimenti a doppia cifra va bene allora Luca resto da te ovviamente abbiamo ancora qualche minuto andiamo a vedere cosa volete mostrare ai nostri amici quali altre possibilità insomma volete mettere in evidenza in questa puntata di Oltre la barriera allora sì perché abbiamo presentato questa nuova gamma ma poi ciò che rimane molto di moda sul mercato e che sicuramente sono i prodotti più scambiati in questo momento almeno per quanto ci riguarda sono i low barrier di cash collect quindi cash collect nuovamente quindi prodotti che pagano dei premi ricorrenti protezione del capitale a scadenza se si rispetta la barriera questo è il mondo cash collect ma in questo caso ciò che il mercato sta richiedendo sono low barrier quindi barriere particolarmente basse e poi panieri di azioni che possono anche in questo caso quindi ritorniamo al mondo panieri di azioni dicevo prima che è sicuramente la parte principale per quanto riguarda poi i volumi sul mercato e su questo siamo sicuramente B&P tra i leader del mercato già dall'anno scorso abbiamo introdotto questo tipo di strutture e stiamo continuamente aggiornando la gamma per appunto avere sempre dei prodotti a scaffale che possono essere interessanti rispetto ai livelli e ai valori del mercato ecco che quindi ad aprile sempre su Borsa Italiana Mercato Sedex abbiamo quotato questi strumenti si tratta di prodotti che in questo caso vanno a tre anni quindi ritorniamo sulla durata forse più classica dei certificati tre anni inseriamo anche la possibilità di scadere anticipatamente a partire dal sesto mese se tutti i sottostanti del paniere performano in maniera positiva premi mensili e anche qui i certificati cash collect hanno avuto varie durate tra un premio e l'altro varie frequenze tre mesi forse fino a due anni fa tre mesi era la frequenza più comune oggi il mercato richiede dei premi mensili questo non so se Pierpaolo poi ce lo può confermare dal nostro osservatorio insomma la stragrande maggioranza ci chiede premi mensili ed ecco che quindi abbiamo passate a meditarmi nel sfornato una gamma di Lovarir cash collect su panieri di azioni a tre anni con premi mensili e effetto memoria la cosa interessante che ci rende anche particolarmente competitivi su questo su questo strumento faccio una piccola parentesi è proprio la capacità della nostra strutturazione di essere competitiva nonostante delle barriere particolarmente profonde perché nel nostro gergo lo barir sono barriere dal 50% a scendere ma arriviamo anche a 30% di barriera quindi cosa significa la simmetria forse diciamo nella sua più grande forma all'interno dei certificati perché una barriera al 30% significa che se i sottostanti non perdono 70% quindi parliamo dei scenari chiaramente una volta sorridiamo perché continuiamo a dire anche per richiesta dei nostri legali in caso di moderati ribassi però Pierpaolo mi ha corretto giustamente al salone di risparmio dicendomi ma qui non parliamo di moderati ribassi un meno 70% da parte delle azioni vuol dire uno scenario non dico catastrofico ma comunque particolarmente negativo e quindi ecco che ad esempio il primo certificato un Eni Unicredit come paniere con barriere quindi due titoli comunque blue chip italiani tra i più grandi del nostro listino con una barriera al 40% questo prodotto paga 9,6 per anno se questi due sottostanti non perdono più del 60% e anche qui vedete l'idea è quella di creare vari panieri sul mondo Italia mentre scorrendo via via la lista troviamo invece anche altri titoli come ad esempio Nike Aldas Under Armour piuttosto che costruttori di componentistica sul mondo dei voli e componenti spaziali come Boeing Airbus Safran piuttosto che linee aeree ecco ad esempio linee aeree American Islands Air France di Jet abbiamo una barriera 40% rendimento che rispetto alle azioni italiane che era intorno al 10 arriviamo già a un 15 abbondante anche qui questo stesso concetto appunto di portare una gamma che abbia uno specchio di rendimenti molto molto ampio ok allora vado da Pia Paolo Scandurra per il rush finale perché dobbiamo andare a conclusione però a partire da insomma dalla sollecitazione che ti dava anche Luca Comunian cioè se la tendenza è quella di avere di richiedere insomma primi mensili se ti ritrovi in quello che diceva e poi insomma lascio a te la conclusione con la presentazione di ciò che hai selezionato effettivamente confermo che la tendenza da parte degli investitori è comunque quella di cercare premi con ricorrenza mensile perché li abbiamo ormai istruiti e abituati bene abbiamo intendo chiaramente come industria dei certificati perché istruiti nel senso che la frequenza mensile aiuta a ridurre un po' la volatilità del prezzo soprattutto quando c'è un'opzione autocall magari non riesce a trovare verifica questo mese la prossima data è già fra 30 giorni e quindi c'è un po' di volatilità in meno sui prezzi rispetto ad esempio alle osservazioni semestrali o annuali che si utilizzavano un tempo e abituati bene perché fa piacere a tutti tutti i mesi ricevere un flusso sul conto corrente e quindi sostenere eventuali spese detto ciò per quanto riguarda l'emissione che ho selezionato in relazione a questa struttura parto dall'analisi di scenario quindi questa volta parto dalla fine e ti faccio vedere e mostro insomma qual è il profilo di questa soluzione 42% di rendimento in tre anni che quindi vuol dire 14% circa all'anno con una barriera a meno 60% ora io sorridevo prima quando Luca ha ricordato questa mia riflessione al salone del risparmio perché effettivamente ci portiamo dietro questa definizione di moderato ribasso ormai dai tempi in cui le barriere erano al 70% se non 80% ma adesso che sono a 40% a parlare di moderato ribasso diventa un po' un po' fuori luogo no? perché poi mi metto nei panni dei consulenti che ci stanno seguendo se avessero un investimento azionario un fondo che fa meno 50% meno 60% non starebbero lì a parlare di moderato ribasso sarebbe una mezza catastrofe quindi certo ecco quindi diciamo che questo certificato paga bene protegge fino a meno 60% sia il capitale che le cedole e per quale motivo ho selezionato questo basket composto da Boeing American Airlines e Lufthansa un po' i prodotti i titoli ci stava facendo vedere prima Luca perché crediamo che finalmente dopo tre anni una volta che questa pandemia è stata dichiarata ufficialmente conclusa dopo che queste aziende queste compagnie hanno anche risolto le loro questioni con prestiti governativi aumenti di capitale forse è arrivato il momento per loro di smettere di scendere ecco attenzione facciamo bene attenzione non ho detto è arrivato il momento che inizino a volare come prezzo scusate il gioco di parola visto che si tratta di compagnia aeree non ho detto ci sta invece no vedi perfetto quindi non ho detto che inizino a correre ma che smettano di scendere che è quello che fondamentalmente a noi serve quindi larghissima protezione potenzialmente anche magari un settore con prospettive ma tutto questo ci consente anche qualora dovessero ancora vivere dei momenti difficili di avere un 60% di margine per un rendimento che su base anno è 14% quindi un ottimo connubio 10 secondi ti faccio vedere la seconda idea invece ci porta sempre sulla durata dei tre anni ci porta sul settore automotive per tre titoli come General Motors Ford e Pirelli e questa è un'emissione insomma partita già da un po' di settimane che però è piaciuta molto al mercato perché consente su tre titoli comunque ben correlati tra loro di puntare a un'acetola mensile dell'1,06% sempre barriera 40% e quindi questa è l'analisi di scenario 12 punti e mezzo di rendimento protezione larghissima fino a meno 56% e concludo dicendo e confermando quanto è stato detto da Luca prima avendo noi un osservatorio anche più ampio sul mercato rispetto a quello di BNP Paribas che giustamente riesce a vedere con massima attenzione i propri numeri però posso dirvi che tra i certificati proprio più apprezzati a livello generale su tutto il mercato i lob barrier sono quelli che si posizionano se non al primissimo posto ma certamente sul podio perché 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 chiaramente così l'investitore riesce ad avere un cuscino di protezione larghissimo molto profondo e nello stesso tempo però non rinuncia ai rendimenti che come vediamo sono a doppia città insomma esatto così torniamo anche al discorso che facevi tu prima sulla struttura protettiva e anche questo ce lo conferma allora noi siamo arrivati al termine di questa puntata come sempre anche qui viene da sorridere perché quando facciamo il brainstorming per oltre la barriera sembra sempre che insomma il tempo a disposizione sia troppo rispetto a quello che c'è da dire invece è il contrario proprio perché insomma di questioni da affrontare e soprattutto di esempi da portare per gli investitori ce ne sono sempre tantissime però insomma lo spazio dedicato all'approfondimento non si esaurisce certo con il nostro format anzi Luca Comuniano e anche per Paolo Scandura sono a vostra disposizione per tutti gli aggiornamenti approfondimenti giusto Luca a partire da voi insomma dal tuo team se vuoi ricordare un riferimento e poi stessa cosa chiedo a Pierpaolo e vi saluto sì certo è stato il nostro sito dove si può trovare tutta la documentazione investimenti punto vmpparibà punto it da lì in alto a destra c'è anche la tendina contatti con email e numero di telefono rispondiamo direttamente dal desk qui a Milano e quindi assolutamente siamo a disposizione per qualsiasi informazione che è la cosa migliore insomma noi abbiamo apparecchiato la tavola però poi le ricette specifiche devono essere poi condivise con voi per chi vuole ripeto avvicinarsi a uno strumento di investimento Pierpaolo chiedo anche a te insomma un riferimento sì naturalmente sì come è possibile vedere alle mie spalle certificati e derivati punto it il sito di riferimento ormai da sempre tra l'altro con una novità partita da un paio di mesi che è la chat live pertanto collegandosi al sito c'è una chat si può scrivere ci sono dei nostri rappresentanti degli esperti che rispondono in tempo reale benissimo allora ancora grazie a Luca Comunian Distribution Sales BNP Paribas un ringraziamento particolare perché questo è un format in collaborazione proprio con BNP Paribas e grazie per l'aiuto e il sostegno insomma per gli esempi pratici e per Paolo Scandura certificati e derivati e naturalmente grazie a tutti voi per averci seguiti restate sulle fonti tv arrivederci in collaborazione con